Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio recensirvi un nuovo prodotto. Ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende, quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando. Questi prodotti ripeto non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io. Sto parlando della panna da montare di soia, si chiama Idee di soia e della marca Opla. Vado a leggervi gli ingredienti. Preparato a base di grasso vegetale non idrogenato con proteine di soia o HT zuccherato. Ingredienti. Acqua, grasso vegetale non idrogenato, palmisto 24%, zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti, sciroppo di sorbitolo E420II, E463, E339, emulsionanti E472E, E433, E472B, caragenina E407, sale, aromi, colorante, beta carotine E160A. Diciamo che anche per quanto riguarda la panna nonostante sia di soia ci sono un po' troppi ingredienti, un po' troppe E. Però è l'unico prodotto che mi permette di realizzare alcuni tipi di dolci che altrimenti non potrei realizzare e di conseguenza molto spesso sono costata ad utilizzare questa. È per fortuna che c'è, dico io, perché alcune cose sinceramente sono riuscita a farle grazie a questo prodotto, ma non lo utilizzo sempre. Quindi come dicevo per le merendine, come per il discorso delle merendine, vi lascio su nelle schede informative il link al video recensione delle ciambelle di mela, e quelle sono anche un prodotto che contengono parecchi ingredienti, e il link alla recensione del merendina dolcetto della Freddy. Ritorniamo alla panna. La Hopla fa in generale panna da cucina, dolce, credo anche per il salato. Per quanto riguarda la panna dolce, la Hopla fa una panna vegetale che però, per quanto sia una panna vegetale, ha comunque proteine del latte. In questo caso hanno inventato la panna di soia, e quindi questo mi ha spinto a provarla. Di solito, questa è la confezione da mezzo litro, da 500 ml, e di solito io questa la pago 1,72€. No, 1,72€ quella piccola. No, 1,72€ quella piccola, da 250 ml. Questa credo che stia 2,72€. Non lo ricordo. Quando so di doverla utilizzare, ne compro un po' e faccio la scorta, tipo adesso nel frigo ho questa confezione o un'altra, e quindi non ricordo il prezzo. Comunque penso che sul sito ci sia, mi informo e magari ve lo scrivo qui da qualche parte in sovraimpressione. Comunque, dicevo, la confezione da mezzo litro mi permette di realizzare parecchie preparazioni dolci. Queste preparazioni dolci possono essere svariate, e se vedete tra i miei video, troverete che ho utilizzato la panna vegetale, per esempio per fare la merendina Kinder Fett al latte. Vi lascio il link sulle schede informative. Qui dice 100% vegetale, senza lattosio, senza glucine, senza grassi idrogenati. Ed è un'idea di Trevalli, un marchio che appunto produce l'Opla. Trevalli è una grande azienda che si fonda sui valori genuini, come la qualità dei prodotti, l'esperienza e la capacità di innovare, tutto con un solo obiettivo, aiutare a vivere meglio. Diciamo che è il fondamento del mio canale. In realtà io non faccio altro che preparare delle realizzazioni dolci, barra salate qualche volta, appunto per mostrare a chi arriva per la prima volta a cercare delle ricette senza lattosio, magari oggi ce ne sono di più, però 12 anni fa quando io ho cominciato a cercare prodotti senza lattosio non ce n'erano, proprio zero, ce n'erano veramente pochissimi e costavano l'ira di Dio, oggi costano un po' meno ma costano comunque tantissimo, ma soprattutto non c'erano ricette che mostravano come realizzare un prodotto senza lattosio, una ricetta, che ne so, ricetta dei muffin senza lattosio, non c'era, non esisteva, perché nessuno faceva i muffin senza lattosio, o perlomeno non la pubblicavano su YouTube, è da lì che è nata l'idea di cominciare a fare ricette, video ricette, che appunto mostrassero come fare. Insomma, diciamo che, torniamo alla recensione, diciamo che io ormai conosco bene a questo prodotto e lo consiglio, lo consiglio perché la panna è buona, ovviamente non vi consiglio di scolarvi un mezzo litro di panna, però provate ad utilizzarla, si monta bene, cosa che invece altre panni vegetali non fanno, questa si monta e rimane bella soda e soprattutto il risultato del prodotto, della ricetta finita è buono, quindi per me questa panna per ora è la migliore che ho trovato, è un prodotto validissimo, provate a realizzare la cheesecake senza formaggio che faccio io con lo yogurt, ovviamente utilizzo la panna, viene benissimo, risultato garantito, io ormai la faccio spessissimo, a casa praticamente non mi chiedono altro, non mi chiedono più altre torte, mi chiedono o il brownies, però lì non ci va questa panna, oppure mi chiedono appunto la cheesecake senza formaggio o quella allo yogurt semplicissima che poi ognuno di loro decora a proprio piacere, con la cioccolata, con la spalmabile per esempio, oppure con la marmellata. La mia recensione termina qui, spero che vi sia stata d'aiuto, spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi ricordo di seguirmi sui canali social, vi lascio il link giù nell'info box e qui in sovraimpressione trovate tutti i canali a cui sono iscritta. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video, ciao!